Terra Mara, anticipazioni di giovedì 23 e venerdì 24 novembre. Zuleia è in ospedale e i nostri protagonisti stanno affrontando nuovi tormenti. Fekeli e Lucie vanno in ospedale. Lei si va ad informare sulle condizioni di Zuleia, parla con Batiar che le riferisce che l'incidente è stato provocato da dell'olio presente sull'asfalto e c'è chi sostiene che fosse intenzionale. Fekeli gli chiede se sospetta di Fikret e lui gli risponde che non vuole accusarlo ma non capisce più cosa stia facendo. Più tardi Fekeli si reca in azienda e quando vede Fikret lo accusa di aver provocato un incidente a Zuleia che sta lottando per la sua vita. Fikret sorpreso gli risponde che non ha fatto nulla ma Fekeli gli risponde che non gli crede perché non gli ha detto che sta con Umit ma gli ha detto di essere innamorato di Mushgan. Fikret gli risponde che non è vero ma ha interrotto la relazione perché l'odio che provava era più forte dell'amore. Fekeli allora lo accusa di aver fatto andare Li, Batiar e Umit per formare una banda per farla pagare a Demir. Poi gli dice che con tutte le bugie che gli ha raccontato non può credergli questa volta. Fikret lo accusa di non essere mai stato dalla sua parte ma da quella di Demir. Fekeli gli ribatte che è lui è dalla parte della verità, della pace e dell'amore. Poi gli dice che quando Demir scoprirà che è stato lui a casare l'incidente lo ucciderà. Fikret gli ripete che non ha fatto nulla a Zuleia e di guardarlo negli occhi per capirlo e che Demir può fare quello che vuole quindi se ne va e Fekeli si chiede come potrà salvare un uomo dalla tomba e un altro dalla prigione. Poco dopo Fekeli si reca al comando di polizia. Dopo qualche ora la polizia si reca da Fikret informandolo che qualcuno lo ha denunciato e che devono interrogarlo circa l'incidente di Zuleia e Aman. Come esce dall'ufficio vede Fekeli e gli dice che lo ha denunciato perché non gli ha creduto e che è sempre dalla parte di Demir. Fekeli gli ribatte che è dalla parte della giustizia. Fikret è molto deluso ed arrabbiato. Nel frattempo Demir accorre in ospedale dove Sevda gli dice che Zuleia starà bene. Demir è disperato e Umit lo guarda da lontano. Finalmente escono i medici che riferiscono che l'operazione è andata bene ma non sono riusciti a salvare il bambino. Demir fuori dalla sala della terapia intensiva guarda Zuleia e dice a Sevda che erano tanto felici di avere un altro figlio. Arriva Aikut che gli informa che è stata Umit a salvare Zuleia bloccandole l'emorragia altrimenti non sarebbe sopravvissuta. Charmin si apparta e apre la lettera di Sebatin. Dentro c'è una richiesta fatta da Ayla Umit Karaman. Charmin subito ricorlega che Sevda quella sera si riferiva al primario e si chiede come faccia a conoscere il suo nome. Ghaffur va da Demir e gli riferisce che la polizia ha arrestato Fikret come responsabile dell'incidente. Demir fuori di sé esce di corsa mentre Sevda cerca di farlo ragionare. Nel frattempo Fikret è sotto interrogatorio e si dichiara innocente in quel mentre arriva Demir con la pistola in mano che cerca Fikret ma viene subito fermato e messo in cella per farlo calmare ma lui grida che lo ucciderà. Intanto Fekeli racconta a Lucia di aver denunciato Fikret per salvargli la vita perché Demir sarebbe impazzito e lo avrebbe ucciso. Vengono interrotti da una telefonata del capo della polizia che gli dice che è successo quello che lui aveva previsto ed ora Demir è rinchiuso in una cella. Poco dopo il comandante della polizia va da Demir e lo libera dicendogli che capisce che ha perso un figlio ma deve rispettare la legge. Tornato in ospedale Demir veglia Zuleyya mentre Umit lo guarda dalla porta e poi se ne va. È sera quando Sevda si reca a casa di Umit e subito si abbracciano poi Sevda le fa vedere una cuffietta di quando lei era nata e le dice che è l'unica cosa che le era rimasta dopo che la nonna e la zia l'avevano rapita. Umit le dice che ha sempre sentito la sua mancanza poi le chiede se dirà a Demir che è sua figlia. Demir intanto assiste al risveglio di Zuleyya che subito gli chiede del bambino e dal suo silenzio capisce che lo ha perso e scoppia a piangere e lui le dice di non essere triste che lo supereranno insieme. Poi arriva Cetin che lo avvisa che deve andare subito in caserma perché Fikret non è colpevole. Intanto Fikret viene liberato e come vede Fecheli che lo sta aspettando lo accusa di aver creduto colpevole anche se non lo era e gli dice che lui non è più suo zio. Demir è dal comandante della polizia che gli spiega la dinamica dell'incidente poi lo porta dal responsabile. Questo come lo vede inizia a piangere e gli dice che è stato un incidente per un colpo di sonno e di perdonarlo. Quando Demir esce dalla stanza trova ad aspettarlo Fecheli che gli dice che Fikret è innocente ma lui non lo ha ascoltato e poi lo ha denunciato perché sapeva cosa sarebbe successo tra loro due e ha voluto proteggerli ma così ha ferito Fikret e ha commesso un errore. A questo punto c'è un salto temporale di dieci giorni. Zuleya è tornata a casa e sta bene e Demir la circonda di attenzioni mentre lei lo rassicura di sentirsi molto bene. Contemporaneamente Rashid va in cucina da Fadik con un mazzolino di fiori ma come lei lo vede gli sputa addosso dicendogli che è un uomo disgustoso. Lui le risponde che lo hanno costretto a sposarsi e che lei era già incinta quando l'ho conosciuta e giura che non è vero che il bambino è suo perché lui non l'ha mai toccata. Arriva Ghaffur che inizia a picchiarlo e lo caccia insultandolo. In ospedale a Dumit arriva un mazzo di fiori con i ringraziamenti di Zuleya e Demir che poco dopo la chiama. Demir la ringrazia e lei gli dice che lo ama e che non capisce come la loro storia possa essere finita. Demir le risponde che è finita e lei è giovane e troverà qualcun altro che ricambierà il suo amore. Subito dopo la raggiunge Mushgan e lei le dice che Demir le ha mandato dei fiori e che le è grato per aver salvato la vita di sua moglie. Poi le confida che si chiede continuamente cosa sarebbe successo se non avesse salvato Zuleya e crede che ora Demir sarebbe tra le sue braccia. Lei lo ama tanto ma non è capace di ferire Zuleya che è innocente. Intanto Charmin raggiunge Demir in ufficio e gli dice che gli aveva detto che Sevda era collegata a Dumit e gli mostra il documento inviato da Sebattin dicendogli che il nome di Dumit è Ayla e che lo sa solo Sevda. Poi uscita da lì incontra Lucie e le dice che Umit ha anche il nome di Ayla e le racconta della sera in cui aveva trovato Sevda in giardino che gridava Ayla per poi negare di averlo fatto. Poi ha scoperto che Ayla è il nome di Umit e che solo Sevda lo sa e che ci deve essere qualche legame fra loro. Lucie la esorta a non esagerare e se ne va con una scusa quindi si reca in ospedale e come vide Umit la chiama Ayla e le chiede perché è sorpresa se quello è il suo nome. Umit le chiede se glielo ha detto Fikret e Lucie le dice che quindi Fikret conosce i suoi segreti. Poi le chiede cosa c'è tra loro, Umit le risponde che è un suo amico ma lei ribatte che sa che è la sua ragazza e le chiede perché è andata a Cukurova e cosa stanno progettando. Umit le risponde che non capisce cosa vuole dirle, Lucie le risponde che sta solo cercando di salvare Fikret da una vendetta che non avrà fine quindi le consiglia di rinunciare ai loro progetti per non rovinarsi. Terminano così queste anticipazioni, Charmin è molto vicina a scoprire il segreto di Sevda e Umit mentre Zuleya è finalmente rinvenuta ma le sue notizie non sono buone. Io sono Stefania, come sempre vi aspetto per i prossimi video, se questo vi è piaciuto lasciatemi un commento o un mi piace, vi mando un abbraccio e a presto!